ciao non conosci l'elettronica oppure vuoi approfondire ciò che già sai allora sei sul canale giusto inizierò una serie di video dedicato a principianti questi video saranno trattati in modo semplici con termini comprensibili a tutti anche a chi non ha studiato elettronica o elettrotecnica useremo degli strumenti online molto carini visivi tipo questo per iniziare a capire cosa sono i vari componenti della resistenza condensatore a cos'è una tensione una corrente questo è un attimino il programma che faremo inizieremo a vedere gli strumenti online dove potrai fare le tue prove ed esercitarti parleremo della tensione della corrente della resistenza in maniera che quando avrai capito cosa sono queste tre grandezze vedremo le grandezze tensione corrente resistenza con i quali si può elaborare la legge di ohm vedremo le resistenze la corrente alternata gli strumenti di misura componenti elettronici e alla fine le attrezzature per poter esercitarti i vari simboli elettronici non preoccuparti se adesso ti sembra una cosa molto complicata vedrai che fatta insieme in modo così semplice riuscirei a capirlo in modo facile quindi non mancare i prossimi video dove ti inizierò a parlare di che cos'è la tensione la corrente e la resistenza le altre cose fondamentali per iniziare a partire a spiegarti cosa sono i componenti e come funzionano ciao